Secondo, un'incesa del ministro dell'Istituto della Società Geografica Italiana. L'interesse per la lingua italiana nel modo che cambia, ma perché gli strani studiano l'italiano? La prima motivazione degli studenti straniere è l'interesse per la cultura italiana. I corsi d'italiano degli istituti italiani di cultura nel mondo in questo periodo. Quasi 12.000 è il numero degli studenti, a quasi 68.000 persone. La notte del modo dove è il maggiore aumento dei corsi è l'America Latina, dove gli istituti quasi 1800 corsi d'italiano. Anche gli studenti dell'Europa Centro-Occidentale, molti. Anche in Giopone, la lingua italiana è molto amata. Tocchio e Kyoto. Due istituti italiani di cultura affrontano 440 corsi d'italiano in questo di sede. Perché gli istituti italiani è la nostra lingua. Il 56% indica tempo libero e interessi vari come fattore di interesse. Per queste persone la lingua italiana è ancora una lingua di cultura. Il secondo posto di studio vince uno più lavoro e 13 motivi personali e familiari. Naturalmente la motivazione e la relazione alla posizione geografica. Questi risultati sono condizionati dagli studenti europei, dove gli istituti sono più numerosi. Ma gli studenti africani, come prima motivazione, lavorano il 50%, il Medio Occidente, Oriente, Schiele e studio, 75% e l'America Latina del Solto. Motive personali e familiari, 37%. Oceania e Nord America, le preferenze europee e preferiscono la cultura. Ah, io andrei stai scurrendo. Bravo, bravissimo, bravo. Bravo, no, è perché c'è molto numero, non ho ancora ricordato tutti i numeri.